Sì, ciao Enzo, Francesco da Bari. Ciao Francesco. Salve, io volevo collegare quello che ha detto prima, diciamo, al carico spettatore. Sì. Sulle critiche di Ventura, nessuno vorrebbe fare delle critiche, perché l'elogio di Ventura a Bari c'è. Sul discorso delle sostituzioni si sta parlando, da come interpreterà la partita, a riguardo Ventura. Ventura è un ottimo allenatore. Però attenzione, perché in questo momento il Bari in panchina non è che abbia un granché, perché tolti gli infortunati, c'è Kutuzov, Ranocchia, Parisi, Rivas e poi chi altro, insomma, e Almiron stesso, tolti questi, molte delle riserve di prima sono diventate titolari adesso. Quindi in panchina non è che ci sia tutto questo, ben di Dio. Credo che questo pesi anche in una squadra come il Bari, nel momento in cui togli cinque pedine così importanti e sposti le vecchie riserve a fare i titolari e metti in panchina quelli che magari prima andavano in tribuna, il prodotto cambia un po', non so se sei d'accordo, Gigi. Lì è di massima, sì, però tornando a Unesco, siccome nel calcio si fanno anche le valutazioni in base ai punti, tu al giro d'Andazzo dopo cinque partite avevi sei punti perché la quinta partita l'hai persa in casa con il Cagliari. A questo punto con quattro partite ne abbiamo quattro. Si dà la possibilità di poter vincere, alla fine che fai? Riprendi l'entusiasmo e c'hai un punto in più delle prime cinque partite. Purtroppo i calcoli si fanno alla fine, è chiaro che in questo momento siamo un po' in emergenza perché mentre gli altri con gli infortuni suppliscono in maniera diversa, tu purtroppo gli infortuni sono pesanti e poi c'hai delle prime scelte. Mi riferisco all'Angella che mi sa tanto di oggetti misteriose. Anche Devezze, tant'è che Ventura gli ha detto l'ho lasciato a casa così riflette un po' su quello che deve fare. Ci sono un paio di situazioni, perlomeno singolari, di due giocatori che potrebbero mai come in questo momento essere utili alla causa. L'Angella e Devezze, non parliamo in assoluto degli ultimi arrivati che invece non sono mai utilizzati e ripeto, non per colpa di Ventura ma probabilmente per qualche responsabilità degli stessi protagonisti. E' chiaro che tu hai messo in campo dopo due giorni di permanenza a Bari e hai messo in campo Sesto che purtroppo non era neanche inserito, è stato anche sfortunato, ha avuto una buona palla da Barreto e è arrivato scordinato da Camatà. C'è un amico in linea, pronto? Niente, aspettiamo ancora qualche istante. 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta. Mi pare che dobbiamo chiudere perché siamo all'orario dello stop. Allora, Gigi, cosa cambia? La primavera è stata eliminata da Viareggio? Sì, la primavera purtroppo è stata eliminata per differenza reti ma ci sono state delle situazioni strane perché anche il ritiro della Sampdoria ha fatto sì che venisse eliminato il Siena a scapito dell'unica squadra straniere. Però io non ho visto le partite perché anche se le hanno dati su Re più però il Bari si è ben comportato e mi dicono comuni e amici che sono stati a Viareggio che ha giocato bene quel difensore centrale che il Bari ha perso dal pavio questo caracciolo. Caracciolo. Va bene. Stop. Grazie a Gigi Lisini. Grazie a voi. Grazie anche a voi. A domani con il Bianco e il Rosso TV Sport. Ciao. Grazie a voi.